Ecco di nuovo l'azione dalla quale è scaturito il gol. Batti testa! Ed eccolo! Il gol del paretto! Ci hanno creduto e sono arrivati al gol dopo una bellissima azione. E questo è un assist perfetto, un tavar facile, un fregno e lucido. Rivediamo questo gol da un'altra colazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!